Quando mi dicono di parlare di numeri, di aritmetica, a me viene sempre in mente questo paradosso della scuola italiana, che tutti gli insegnanti di matematica siamo tutti, come dire, affannati, preoccupati di insegnare, a far di conto fondamentalmente. E quindi l'insegnamento è molto appiattito sull'aritmetica e sull'algebra poi, a discapito di geometria, probabilità, eccetera. E invece poi dopo, proprio nei numeri, le prove oggettive esterne mettono in evidenza grandi difficoltà dei nostri allievi. Quindi occorre fermarsi e riflettere su come insegnare bene l'aritmetica, come insegnare bene l'algebra e a cosa dare la priorità. Non è facile, cercheremo di riflettere su queste cose.